Ciao a tutti, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie The Family. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Aslan ha ucciso Attila e ha dato fuoco alla sua villa. La notizia si diffonde rapidamente attraverso i telegiornali, e così Alia e Devin scoprono l'accaduto. L'omicidio di Serhat da parte di Aslan scatena una guerra senza precedenti, mettendo a rischio la vita della sua famiglia. Per proteggere la sua famiglia, Aslan decide di blindare la tenuta, vietando a tutti di uscire di casa. Tuttavia, Yagmur, sotto pressione dalle accuse di Alia, decide di lasciare la tenuta di nascosto. Nese avverte Devin della scomparsa di sua sorella. Devin, la moglie di Aslan, sequestra Alia e la sua macchina per cercare Yagmur. Aslan, diventando sempre più spietato come suo padre, decide di affrontare il suo peggior nemico, Ilias. I due si incontrano nell'acquario per un confronto definitivo. Devin confessa a Ilias di aver ucciso suo figlio perché aveva fatto del male a sua cognata. Ilias promette una terribile vendetta contro Aslan e la sua famiglia, giurando di spargere sangue e sterminarli uno ad uno.